L'esclusione della campagna dalla compensazione tra i debiti e i crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione ha animato la seduta odierna del Consiglio regionale. A tenere banco soprattutto il duro intervento sul tema del governatore Caldoro che ha tacciato come criminale la scelta di escludere dai pagamenti le imprese campane. A Caldoro fa eco anche il consigliere regionale del PDL, Fulvio Martuscello. Quello che è stato fatto dal governo Monti è un assassino nei confronti della campagna. Escludere la campagna dal decreto compensazioni, impedire ai nostri imprenditori di poter compensare i crediti che hanno nei confronti dello Stato con i debiti che hanno per pagare le tasse, significa consegnare gli imprenditori in mano agli usurai. Quindi ci deve essere una mobilizzazione straordinaria generale per far cambiare il decreto. Dopo le polemiche l'Aula ha poi approvato la modifica alla legge 11 del 2007 con una nuova denominazione misure per la semplificazione, potenziamento e modernizzazione del sistema integrato, del welfare regionale e dei servizi per le non autosufficienze.